Grazie a tutti. Quali sono gli interventi realizzati su questi scali e a quanto ammontano gli investimenti? Ed inaugurata nel luglio scorso l'aerostazione Passeggeri, una erostazione estremamente pensata per quell'aeroporto con le caratteristiche che richiamano il territorio dell'isola. Inoltre sono stati realizzati i parcheggi e la viabilità, mentre invece per l'aeroporto di Pantelleria è stata realizzata completamente nuova l'aerostazione, inaugurata agosto scorso, agosto 2012. Sono stati fatti importanti interventi di riqualifica delle infrastrutture di volo con la messa in funzione della vecchia pista 0321 che consente una maggiore operatività dello scalo. Sono stati fatti interventi di riqualifica delle aree terminali e quindi sono sostanzialmente due aeroporti sono stati completamente risistemati a renderli idonei al tipo di attività turistica e di collegamento con queste isole, con classi e servizi maggiore rispetto a quelli che avevano perché erano rimasti opere ferme al 1980. Complessivamente su questi aeroporti in questi ultimi cinque anni sono stati investiti circa 80 milioni di euro. Dottor Vergari, ci dice qualcosa sulle innovazioni introdotte sulla tutela dell'ambiente? Su questi aeroporti di Lampedusa e Pantelleria, fin dall'inizio è stato condiviso e concordato col Ministero dell'Ambiente e con la Regione Sicilia un programma di valutazione di impatto ambientale teso a dare risposte all'aspetto ambientale dei due aeroporti. Infatti sono stati utilizzati per l'aeroporto di Lampedusa materiali tecnologicamente avanzati, sono stati introdotti sistemi di fotovoltaico di seconda generazione e quindi la tendenza a quella di rendere autonomo l'aeroporto nel breve termine. Sull'aeroporto di Pantelleria ancora di più è in sperimentazione, forse il primo in Italia, un sistema a concentrazione solare che darà dei risultati di rendimento sicuramente doppi rispetto alle energie o alle soluzioni tecniche attuali. Si sta sperimentando anche il geotermico ed inoltre insieme sempre al Ministero dell'Ambiente è in atto un programma cosiddetto POI proprio per rendere autonomi completamente i due aeroporti. Questo discorso ha riguardato anche il territorio e abbiamo provveduto appunto in sede di valutazione di impatto ambientale a dare delle compensazioni sul territorio in termini ambientali. Quindi sono stati visti tutti gli aspetti sia di tipo ambientale sia da un punto di vista ecologico e di tecnologie di materiale. Gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria come si collocano nel quadro del comparto aereo nazionale e che contributo potrebbero dare al sistema economico turistico della Sicilia e più in generale del Paese? Per quello che riguarda gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria come sappiamo Enac ha fatto uno studio sull'aeroportualità e quindi hanno una loro collocazione nel piano nazionale. Tornando invece sul territorio, secondo me sono assolutamente strategici. Proviamo ad immaginare se uno dovesse raggiungere queste isole con altri mezzi. Ci si impiegherebbero giorni, quindi sono fondamentali per il turismo locale, per l'economia e per tutto quello che è anche l'attività giornaliera che viene svolta sull'isola dalle provviste ai soccorsi sanitari e così via. Quindi sono un elemento strategico per quell'isole, sicuramente con una grande ricaduta economica e possono favorire in termini più generali importanti movimenti di persone che turisticamente sono interessate a quei splendidi luoghi. Dottor Vergari, per concludere, come sono stati considerati questi scali nella proposta dell'Enac per la redazione del piano nazionale degli aeroporti? La proposta di piano dei trasporti elaborata di Enac, che peraltro discende da uno studio e un'analisi complessivo degli aeroporti sul territorio nazionale e tuttora in fase di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indica per gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria la destinazione come aeroporti di servizio, cioè quegli aeroporti destinati alla continuità territoriale, destinati al turismo e a collegare le popolazioni di quelle isole con il continente, cosa che avverrebbe estremamente con altri mezzi di trasporto in modo complesso e complicato.